Non l'ho visto, penso che se per te in 90 minuti della partita questo era il momento più importante, si può parlare di calcio, non si parla di altre cose, poi non lo so, non l'ho visto, non lo posso commentare. Stelino vuole parlare dell'episodio con Guardiola e De Jong? C'è stato un fallo di De Jong e poi Guardiola ha detto due parole a De Jong, niente di che. Come ha visto il fallo di De Jong su Kimmich? Di che cazzo stiamo parlando? Un fallo di De Jong. Non si gioca a calcio, non è balletto, come ha visto il fallo? Ma chi è? Andiamo ad Alberto Pastorello. Che domande? Come ha visto fallo, come ha visto quello, come ha visto quello? Fallo fa parte del calcio, no? Forse è un amichevole, non è amichevole, ma questa non è amichevole, questa è una partita dove non c'è niente di amichevole, io non la vedo così. Scusi. No, scusa. No, scusa. Vai, fai...